salve a tutti ragazzi sono sempre il vostro vincenzman e questo ragazzi siamo su archivo ragazzi quest'oggi ho intenzione di continuare a cercare di superare il capitolo cioè il livello di questi boss che sono abbastanza difficili e dirgli andare allora questo 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 e questo allora direi di andare ciao 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 ragazzi ce la sto facendo ragazzi che ce la sento adesso ok quello rosso è morto attenzione grande raga livello 145 boss superato mamma mia va bene ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio di archivo ciao